segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te lei condivide diciamo che c'è un tema di virgolette pericolo democratico oppure è semplicemente una coalizione unfit to lead si sarebbe detto una volta perché se c'è il pericolo democratico bisogna fare in adatta in adatta governare quindi contro cui va opposta diciamo una coalizione con i suoi programmi ritenuti più che libri perché se c'è il pericolo democratico bisogna fare il cln diciamo cioè tutti per salvare la democrazia draghisti non draghisti contiani non contiene no paolo monarchici pentiti che ne pensa pure perché poi invece entriamo sul programma le differenze quanto litigata per me come dicevo prima l'aveva ritenuta larghissima la coalizione perché non c'è un pericolo democratico nel senso pieno e spero che questa cosa non ci sia più in questo paese c'è una se ci sono una serie di pulsioni molto poco moderate anche oggi l'abbiamo vista come dire alle prese con almeno due episodi molto spiacevoli diciamo così perché tardi ma insomma non rinverdiamo la polemica del video di piacenza e delle devianze ma insomma siamo molto al di là dello schema moderato che piace ai centristi ecco c'è un problema secondo me di alcuni esponenti che meloni porta con sé che hanno dei curiosi rapporti con le frange più estreme della di una destra che a me non piace per niente e c'è soprattutto una collocazione a livello europeo di cui questo sì sono molto preoccupato c'è orban orban c'è il legame con tutti i partiti estrema destra con una forma come dire anche di fastidio verso l'istituzione europea molto spinta con come bastano le professioni di atlantismo che ha fatto ma insomma il problema che mentre dice che è atlantista dice tante altre cose soprattutto quando va in spagna lei quando va in spagna esagera no però anche quando anche da noi poi sappiamo tradurre quindi qualcosa ci è arrivato la cosa che mi sorprende è che anche questo tentativo di mettere le vecchie glorie parlo con rispetto del centro destra è un tentativo un po' raffazzonato perché appunto uno si immaginava che con tutto questo consenso meloni avesse dieci persone strepitose da presentare alle elezioni che potessero governare il paese mi sembra che non le abbia